Buongiorno, vi presentiamo questo interessante workbook di Luigi Cavalli, TV Monitor Display dalla tecnologia LED agli OLED, dalla televisione 3D a quella olografica. Questo volume è utile per tutti coloro che vogliono informarsi, pur non essendo degli esperti e senza entrare in particolari tecnici troppo approfonditi. Questo testo è edito da LibriSandit e si tratta di un workbook, così come tanti altri libri e manuali tecnici della loro collana. È adatto sia a neofiti che a professionisti o semplici appassionati. È interessante per togliersi alcune curiosità capire quali sono le nuove tecnologie emergenti, soprattutto nel settore della televisione e dei monitor. Sono 104 pagine a colori con interessanti schemi, disegni, illustrazioni che possono aiutare a chiarire tanti principi legati a queste nuove tecnologie. Se siete interessati a questo o ad altri manuali tecnici, visitate il nostro sito www.elettronicadidattica.com. Grazie per l'attenzione, vi aspettiamo per il nostro prossimo video e iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Ciao a tutti!